Sento che tutto tranne la vostra personale cortesia e contro di me We are a nation that has a government not the other way around Our government has no power except that granted it by the people Would she tell us whether she intends to continue her own personal fight against a single currency and an independent central bank when she leaves office? No, she's going to be the governor I hadn't thought of it But if I were, there'd be no European central bank accountable to no one least of all to national parliament Because the point of that kind of European central bank is no democracy taking powers away from every single parliament and being able to have a single currency and a monetary policy under interest rates which takes all political powers away from us Trovo vergognoso Che si stiano dalla parte dei medesimi Che inaugurarono il terrorismo ammazzandoci sugli aerei, negli aeroporti, alle Olimpiadi e che oggi si divertono ad ammazzare i giornalisti occidentali a fuscilarli, a rapirli, a tagliarli la gola, a decapitarli Dopo l'uscita della rabbia e l'orgoglio qualcuno in Italia vorrebbe farlo anche a me Citando versi del Corano esorta i suoi fratelli delle moschee e delle comunità islamiche a castigarmi in nome di Allah a uccidermi, anzi a morire con me Poiché è un tipo che conosce bene l'inglese in inglese gli rispondo Fuck you Obama Mi responsabile per la mia esecuzione Islamist Questo è Boko Haram Il gruppo armato Salafita fondato nel 2002 Da dieci anni cerca di imporre la sharia in Nigeria attraverso continui massacri Assolutamente Allora Giallo Stupid Chologie that Pickser La Grazie Vedo un uomo età militare al cellulare osserva il convoglio passo se pensi stia segnalando gli spostamenti delle truppe è via libera decidi tu passo magari sta soltanto chiamando la moglie se ne è andato in fretta un momento vedo una donna e un ragazzino a 200 metri si dirigono verso il convoglio lei ha le braccia rigide trasporta qualcosa a una granata una rk g russa la data al ragazzino una donna e un ragazzino li vedete potete confermare negativo ti fanno la pelle se ti sbagli f**k f**k www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info